Buongiorno amici, un minuto per commentare insieme a voi le elezioni nei Paesi Bassi che si sono appena concluse. Vince Wilders del partito PVV, alleato della Lega, perdono l'Unione Europea, perde il primo ministro uscente e soprattutto perde Timmermans, il vecchio commissario artefice del Green Deal, che rimane indietro, distaccato notevolmente dal partito che ha messo al centro i temi che stanno a cuore ai cittadini anche dei Paesi Bassi. Nel Paese più verde e più europeista dell'Unione Europea vince chi ha messo sul tavolo il tema della critica a questa Unione Europea, il tema della protezione della nostra identità contro l'islamizzazione e il radicalismo islamico, il tema della sicurezza nelle nostre città.